Qua giù, giù perché devo andare verso la nave, assolutamente, magia che c'ho già Eh, grazie Anche la mossa speciale qua non è niente di Anche questa qui, ma non riesci a farla, no? Sarà devastante, ma non riesci a prenderli dentro Vai su Guarda, ho i gattoli schiacciando bottoni sul computer Questi mi, questi mi, questi mi faranno dannare Di sicuro perché Vai a prenderli dentro una volta Niente, un casino Si riparano, sì Certi avversari da battere con lui sono molto più Difficili E si riparano da tutte le mosse che c'ho Eh, non voglio neanche mai Ma che palle! Ah, mi sto incazzando, eh Sapevo che con Alleluia Torniamo un sacco di energia Poi, va bene qua Ma vedi come fa Li colpisce una volta Poi Ma vai in culo vai Che bastardi che sono Colpisce una volta poi non arriva più a prenderlo Oh, questi ti massacrano Poi lento E impacciato Vabbè Vediamo di riuscire ad arrivare Almeno Ti devastano Ma è difficile da usare questo, eh Dovevo usare il primo continuo qua Mamma mia Mamma mia Ti massacrano Purtroppo quando sono in più tanti che non riesci a C'è lei Lei adesso sarà divertente da fare con qualcosa qua Molto divertente Adesso c'ho la mossa da usare, eh Però Che userò Inca se no non ce ne usciamo più Incontri anche personaggi In zone completamente diverse La mossa qua serve a qualcosa A nulla Si ripara da tutto No? Che massacra questa, eh Non riuscissi a prenderla dentro una volta Non riesci a prenderla Non ce ne la fa Andiamo Ho fatto ucciderla ma Con Estrema Estrema Difficoltà I minotauri qua mi Mi massacrano I minotauri Siamo a livello 5 Però io quello che volevo vedere E' una strada che mi manca qua Sulla nave Eh dai Ma Perché? Oh Niente E' man totta una vita Così Da E soprattutto Questi qua che salta Non stanno mai fermi Non riesce a prenderli e neanche lui prende eletto un manicomio picchia ripicchia ma il problema è che ah ok se se prendi il giro che non gli sbagli allora poi con i cavalieri picchiamolo da qua che non fa male per quello quella mossa qua è totalmente inutile va bene ci sono quasi al punto dove volevo arrivare guardate adesso lì mi picchia di là perché perché sì anche questo mi picchia giustamente grazie va bene questo è super veloce mi massacra no far cazzate qua anche nelle fasi dove ci saranno tre di questi qua insieme c'è ancora energia qua sì porco poi lo becca dentro una volta poi è troppo difficile da usare quel personaggio qua oh non riesci a beccarlo dentro eh ve ne dà un pugno poi e poi basta si ripara sempre l'ho preso dentro con questa qui non studiando tattiche però anche questa potevo provare ma anche questa potevo provare ma vabbè è qua che io voglio andare a vedere cosa c'è è l'ultima strada che mi manca andare verso l'alto andare verso l'alto e vedere dove mi porta quella sezione qua non l'ho mai fatta ok energia porco ma affanculo come l'ha tolta tutta sto ma niente cavalieri adesso era divertente che massacrano due poi per di più non avendo mosse che ti massacrano come cambia ti vastano ti e dai che qua c'è n'è uno che mi circonda dall'altro e qua non fai più il gatto ma porca o non li becchi dentro ma neanche a non devi farti circondare perché non li becchi dentro ma neanche quando li becchi ti picchia l'altro da dietro si proteggono da tutto non li suicida ne manco uno che bastardi che sono oh non muoiono mai eh oh resi buonanotte ti devastano ti massacrano non so se tu ci si darne uno non riesco neanche a fai la me va a fan cura da ora questi forse sono un po' più gestibili nel senso che si riparano un po' meno un po' meno va bene si poi alla fine ti porta sempre cambia quello che incontri ma alla fine arrivi sempre al punto x ecco scheletri cioè con questo qua è è difficile affrontare una cosa troppo lento massacrano forse con questa tenendo tutti che si riparano da tutto difficili secondo lui vedi come è proprio magia 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 che lasciamo qua sono all'aquila forse l'aquila però con i cavalieri capirai con i cavalieri due cavaliere frontale all'aquila comunque il personaggio qua è abbastanza improponibile anche l'aquila si difende da ogni cosa quindi diventa un problema oh l'uccise cosa cazzo è successo l'ho uccisa già l'ho usato lì la mela lui è più potente ma ecco qua c'è quel gioco qua che non vincerò mai con la lentezza che c'ha questa cosa qua ecco diavolo che mi fa venire si ce l'ho fatta a questo punto vediamo dove arriva ancora ancora sei vivo e mi ha tolto la vita ancora mi hanno tolto tutte le vite praticamente in quel livello qua un continuo mi hanno tolto e lui continua ad essere vivo ok non va bene non so se la faccio appena con tre continue all'ultimo livello livello è perché non ho l'abitudine di proteggermi e questo è un livello che è particolarmente bastato l'ancora ancora d'aquila ok ma questa non dovrebbe crearmi grossi problemi grazie 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 ma vai in culo perché perché non fai come hai fatto prima che l'hai presa e basta stai attento a non farmi togliere tutta l'energia qua all'inizio dall'aquila castello sullo sfondo medaglie medaglie si riprende il ritmo giusto non è complicata però non so se si fa così no ancora il diavolo perché devo farmi togliere una vite ancora anche qua vai ce l'ho fatta e chi è l'aquila e chi sarà mai l'aquila ma il re non poteva essere che il re non poteva essere che lui la principessa che fine ha fatto la principessa è prigioniera nel castello ti prego aiutami e viene fulminato il re viene ucciso quindi siamo nel castello siamo finalmente arrivati nel castello del demon appena tra continua una sola vita devo giocarmela bene devo giocarmela con calma devo giocarmela bene veramente qua perché non è finita ancora delle sezioni abbastanza complicate quindi devo starci molto molto all'occhio giocare con intelligenza andare avanti con calma perché qua è pieno di boss sotto boss cribbio di boss no tre tre addirittura di questi qui sarà una sezione interessante devo fare così se faccio così non è complicatissimo ma non farmi incastrare prendere dentro anche due insieme va bene state tutti di là se volete star di là ecco grazie mi hanno preso in pieno per riuscire a eliminarne almeno uno cosa non semplice perché ci hanno un sacco di energia uno l'ha eliminato si è incastrato quello lì uno no non l'ha eliminato neanche uno mi sembra di averne visto ancora due di là però uno l'ho eliminato adesso di sicuro è l'ultimo prima sezione è andata energia grazie dammene ancora grazie questo aspetto prenda perché se lo sapevo si escono ma porco il diavolo ma vai in culo vai andate in culo maledetti questi no prendi l'energia tutta me l'ha data ma che bastardi che sono ok devo giocare con intelligenza mi massacrano questi non farmi circondare assolutamente prendere il ritmo giusto non sono complicati me vai in culo no non farmi incastrare soprattutto non farmi prendere calci ammazzate cazzo stavo andando bene porco non farmi non farmi ancora